bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata oggi amici parliamo di un famosissimo serial killer e questo tra l'altro è uno dei casi più richiesti da voi in assoluto prima di cominciare però amici vengo dal futuro per dirvi che abbiamo uno sponsor il video di oggi tra l'altro lo vedete con lo sfondo vecchio perché è stato registrato in precedenza ma tranquilli ovviamente sono sempre io comunque ringraziamo tutti insieme lo sponsor del video di oggi che come sapete è un grosso supporto al mio canale e al mio lavoro ormai da un po di tempo ovvero letyshop letyshop è un servizio di cashback un servizio gratuito che ti permette di ricevere indietro una parte di soldi che spendi nel tuo shopping online attraverso il sito oppure l'app potete scegliere tra migliaia di negozi di tutti i generi da canon a kiko da berska a italo ed è veramente comodo perché essendo convenzionato con così tanti negozi ma veramente amici migliaia di negozi di tutti i generi si ha davvero la possibilità di risparmiare anche sui beni di prima necessità potete infatti usarlo persino per fare la spesa online perché letyshop è convenzionato anche con per esempio hey conad oppure carfour basta iscriversi appunto gratuitamente sul sito o sull'app selezionare il negozio da cui vuoi fare l'acquisto controllare che l'icona verde di letyshop sia attiva in alto e al check out e in seguito al pagamento ti verrà accreditata la percentuale di cashback di soldi proprio direttamente sul tuo conto paypal o sul tuo conto bancario e appunto non si ricevono dei buoni sconto o cose così si ricevono proprio dei soldi reali con cui fare quello che si vuole scaricando l'estensione per il vostro browser inoltre sarà ancora più facile capire quali sono i siti convenzionati con letyshop in modo da non perdere mai l'occasione di ricevere un cashback facendo shopping trovate il link per provare letyshop come sempre sotto nell'info box del video e adesso torniamo alla storia di oggi torniamo al nostro Ed Gein le sue azioni hanno ispirato film come psycho non aprite quella porta o il silenzio degli innocenti oggi amici parliamo di Ed Gein Edward Theodore Gein nasce il 27 agosto 1906 a La Crosse in Wisconsin ha un fratello maggiore di nome Henry e i suoi genitori si chiamano George Philip Gein e Augusta Wilhelmine i Gein erano una famiglia piuttosto povera erano dei gran lavoratori della terra quindi erano dei contadini e soprattutto la madre Augusta lei era una grandissima lavoratrice una donna molto forte sia fisicamente sia caratterialmente tutti infatti avevano paura di lei a partire da suo marito Augusta era una donna con cui era meglio non litigare cioè era meglio non contraddirla proprio mai e questa è una cosa che avevano imparato tutti molto in fretta i suoi figli il marito ma anche tutti i vicini di casa Augusta era una donna molto religiosa era di religione luterana ed era molto severa con tutti sia con i figli sia con il marito anche se tra i due figli Ed Gein è sempre stato il suo preferito e il piccolo Ed adorava a dir poco sua madre infatti se avete visto l'iconico film psycho o anche il telefilm tratto dal film che si chiama base motel tra parentesi se non l'avete visto guardatelo perché merita a me è piaciuto tantissimo comunque il rapporto morboso tra il protagonista del film ma anche del telefilm e la madre è proprio ispirato al rapporto tra Ed e sua madre Augusta suo marito George il marito di Augusta il padre di Ed era un uomo molto represso soprattutto per via del suo rapporto con la moglie il fatto di essere impaurito da lei lo faceva sentire diciamo un mezzo uomo ma allo stesso tempo non poteva farci niente non sapeva tenerle testa comunque tutte queste sue frustrazioni le sfogava nell'alcol George Gein era un alcolizzato e questo era solo uno dei tanti motivi per cui Augusta lo disprezzava cioè lei aveva di lui un'opinione bassissima gli ricordava sempre quanto fosse un fallimento come uomo come padre come marito come essere umano praticamente il nostro Ed invece era un bambino molto tranquillo piccolo di statura esile di corporatura con un occhio un po' pigro dava l'impressione di un bambino molto fragile e in realtà lo era era molto gentile era solitario era anche un mammone e per tutti questi motivi a scuola veniva spesso preso in giro e bullizzato e ogni volta che Ed veniva bullizzato e tornava a casa piangendo quando suo padre se ne accorgeva lo riempiva di botte ancora di più gli urlava di vergognarsi gli diceva di non piangere perché i veri uomini non piangono e lo picchiava intimandogli di essere un vero uomo e fa sorridere se pensiamo al fatto che lui il padre George in primis era quello che non si sentiva un vero uomo perché piangeva agli insulti della moglie quindi vabbè questa è psicologia spiccia un mero esempio di proiezione delle proprie insicurezze sul sull'altro e comunque a causa delle botte del padre si dice che Ed Gein abbia sofferto diversi traumi cranici che come ormai sappiamo è una cosa molto comune molto ricorrente nei serial killer ad un certo punto comunque la famiglia Gein si trasferisce dalla cross che già era un buco dimenticato da dio a plainfield che era un paesello poco distante da lì che era se possibile ancora più piccola di la cross cioè ho letto che plainfield faceva sembrare in confronto la cross una metropoli quindi amici qua siamo in un paesino in cui non succede mai niente in cui si conoscono tutti proprio all'ennesima potenza praticamente ci vivevano la famiglia Gein il loro bestiame e basta e la decisione di trasferirsi lì la prende proprio la madre augusta ovviamente ma come avrete capito augusta prendeva un po' tutte le decisioni augusta si è voluta trasferire lì proprio per proteggere i suoi figli dai peccati del mondo e dai peccatori per lei tutti erano peccatori e solo in un posto isolato come plainfield sarebbero stati al sicuro da essi e a questo punto amici succede una cosa nella vita di ed che è molto importante ed è proprio il primo grossissimo campanello d'allarme rispetto a quello che poi diventerà praticamente un giorno ed era piccolo non ho trovato esattamente quanti anni avesse ma da quello che ho letto poteva avere intorno agli 11 12 anni si trovava a casa sua e come già detto la sua famiglia aveva una specie di fattoria con del terreno e del bestiame ed inizia a sentire dei rumori provenienti da un capanno sentiva dei versi dei lamenti e allora incuriosito va a vedere che cosa fossero aveva sentito tante storie dai suoi compagni di classe di quello che gli adulti fanno quando sono da soli no ed aveva comunque l'età in cui si inizia ad essere curiosi riguardo al sesso e quelle cose all'epoca erano completamente sconosciute erano dei tabù per per i bambini soprattutto di quell'età quindi si avvicina alla porta del capanno aspettandosi di trovare i suoi genitori che hanno un rapporto ma invece quando la porta si apre si trova davanti tutta un'altra cosa dentro il capanno c'erano sì suo papà e sua mamma ma avevano indosso dei grembiuli ed erano impegnati ad uccidere un maiale ora questa era una pratica che per quanto crudele e orribile per i genitori di ed era normale loro avevano il bestiame anche per quello per mangiarselo quindi non era nulla di anomalo per loro ma la vista di quella scena sconvolge completamente il piccolo ed era tra l'altro una scena molto raccapricciante perché come potete immaginare c'era tantissimo sangue sicuramente era una visione molto forte per un bambino di quell'età che oltretutto non se lo aspettava per nulla il problema è che ed non reagisce nel modo in cui avrebbe reagito qualsiasi altro bambino o ragazzino perché alla vista del maiale sgozzato e grondante di sangue ed ghin ha il suo primo orgasmo quindi amici partiamo male malissimo e continueremo sempre peggio all'età di 12 anni ed viene beccato da augusta nella vasca da bagno che si trastulla diciamo così guardando una rivista con delle signorine in costume che vabbè una cosa anche abbastanza normale mi viene da dire soprattutto dopo l'episodio del maiale ma augusta è inorridita per lei il sesso e tutto quello che ruota intorno al sesso è un peccato mortale e i genitali specialmente quelli degli uomini sono l'origine di tutto il male ma soprattutto secondo lei tutte le donne erano delle troche tranne lei ovviamente tutte tranne lei e questa cosa soprattutto il fatto che i genitali maschili fossero l'origine di tutto il male viene trasmessa forte e chiara a ed tanto che in seguito dirà di aver desiderato di essere nato donna e si era anche chiesto se ci fosse un'operazione che potesse rimuovere i suoi genitali maschili tanto se ne vergognava tanto erano un problema per lui a causa di quello che gli aveva insegnato sua madre crescendo ed continua ad essere molto solitario anche perché comunque sua madre gli proibiva di avere degli amici perché tendenzialmente come già detto per lei erano tutti peccatori e voleva a modo suo proteggere suo figlio e anche per questo per il fatto che fosse così tanto solitario ed veniva proprio trattato come lo strano del paese tutti a plainfield lo guardavano con un po con imbarazzo non so come dire con disagio qualcuno diceva di lui sleepy eye sleepy guy ovvero occhio pigro ragazzo pigro nel senso di lento un po addormentato ma nonostante questo nessuno ha mai visto neanche l'ombra di cattiveria in lui o di malizia pensate che a ed non piaceva neanche cacciare non gli piaceva uccidere gli animali anzi una volta durante la stagione della caccia tutti avevano riso di lui quando lo avevano visto praticamente svenire alla vista di un cervo che veniva ucciso da uno dei cacciatori una cosa che gli piaceva fare invece era leggere ed amava leggere si perdeva nei suoi libri all'inizio leggeva libri religiosi ovviamente come voleva sua madre ma crescendo inizia a leggere libri di storie molto violente e anche libri sull'anatomia umana comunque nonostante ed venisse visto da tutti come un ragazzino lento e addormentato di sicuro era un gran lavoratore all'età di soli 13 14 anni lascia la scuola per poter lavorare alla fattoria della sua famiglia per aiutarli insieme anche a suo fratello henry dato che comunque l'unica che provvedeva alla famiglia era sua mamma augusta suo padre george continuava a bere e a fare poco altro i suoi figli e augusta lo guardavano sempre più con disprezzo come se proprio non valesse nulla fino a che un giorno il primo aprile del 1940 george muore per problemi cardiaci probabilmente dovuti alla sua dipendenza da alcol da quel momento le dinamiche all'interno della famiglia ovviamente un po cambiano henry il fratello di ed inizia a svincolarsi un po dal dominio diciamo della madre augusta lei non riusciva più ad avere il controllo totale su henry come invece continuava ad avere su ed henry infatti inizia a frequentare una donna addirittura una donna divorziata che per sua madre era forse peggio di diventare un serial killer cosa a cui poi comunque penserà l'altro figlio henry infatti in qualche occasione ha persino tentato di tenere testa a sua madre ha osato criticare i suoi insegnamenti religiosi e i suoi pensieri le sue idee e questa cosa sconvolge ed che invece come abbiamo visto adorava sua madre la vedeva come una sorta di essere divino quindi il fatto che suo fratello osasse disobbedirle o addirittura criticarla per lui era incomprensibile e questo lo porta anche a provare una sorta di astio nei confronti di suo fratello le cose comunque procedono in modo piuttosto tranquillo nella famiglia gin ed henry iniziano a lavorare come tutto fare nel loro paesello ed a volte fa anche il babysitter per qualcuno dei bambini dei vicini ma nella primavera del 1944 succede qualcosa di strano praticamente quel giorno nel bosco vicino casa dei gin scoppia un incendio ed ed henry si trovavano proprio in quel bosco quindi tentano di domare l'incendio ma ad un certo punto i due si separano ed non riusciva più a rimanere vicino alle fiamme perché non riusciva più a respirare mentre invece henry per qualche motivo si addentra ancora di più nel bosco verso le fiamme ed allora va nel panico e corre a cercare aiuto chiama sua mamma chiama lo sceriffo del paese e quando arriva quando arrivano le autorità dopo che il fuoco è stato domato iniziano a cercare henry e purtroppo lo trovano e tra l'altro è proprio ed a guidarli verso il suo corpo ma lo trovano senza vita la cosa strana però è che lo sceriffo nota che sulla sua faccia sulla faccia del corpo di henry c'erano delle ferite molto strane non erano ustioni causate dalle fiamme erano proprio delle ferite come se qualcuno lo avesse colpito con un con un oggetto con un corpo contundente sulla faccia e sulla testa ma alla fine il medico legale determina che henry era morto di infarto mentre cercava di domare le fiamme e che cadendo si fosse fatto male alla testa ancora oggi però considerando quello che poi ha fatto successivamente nella sua vita si pensa che sia stato proprio ed ad uccidere suo fratello henry proprio per via dell'astio che provava nei suoi confronti per appunto essere andato contro sua madre augusta o forse ancora per eliminare l'ultimo uomo della famiglia e per avere sua mamma tutta per sé non si è mai avuta la conferma però cioè non è sicuro che ed abbia ucciso suo fratello diciamo però che è assolutamente probabile e tra l'altro fatemi sapere poi nei commenti voi che cosa pensate riguardo questo dettaglio qua ed comunque rimane l'unico uomo di casa erano rimasti da soli lui e augusta ma purtroppo un giorno all'improvviso alla donna viene un ictus da cui non si riprenderà mai completamente ed da quel momento in poi si prende cura di sua madre in tutto e per tutto le dà da mangiare la lava di notte dorme con lei ma dopo neanche un anno le viene un altro ictus e questa volta augusta muore il 29 dicembre del 1945 lasciando ed completamente da solo nel mondo ed a questo punto a 39 anni è devastato dalla morte di sua madre e pensate cioè fino a questo punto lui ha avuto solo lei lei è stata tutto per lui a 39 anni ed non aveva mai avuto un amico non aveva mai avuto una donna e aveva perso l'unica figura di riferimento che aveva a cui tra l'altro era attaccato in un modo morboso la vita di ed comunque va avanti lavora nella sua fattoria anche se per lui è strano senza sua madre che gli dava ordini di continuo continua comunque a leggere a divorare un libro dopo l'altro e a questo punto si era dato ai libri horror e ai gialli e leggeva anche libri sul nazismo gli piaceva proprio leggere delle torture che i soldati infliggevano e leggeva anche molto volentieri storie sul cannibalismo quindi diciamo che era affascinato da tutto ciò che riguardava la morte o che comunque era macabro anche dopo la morte di sua madre agli occhi della comunità ed rimane sempre lo stesso rimane sempre lo stesso uomo gentile tranquillo un po lento ma sempre disponibile insomma quello che era sempre stato notano magari che si curava un po di meno si lavava un po di meno a volte si dimenticava di farsi la barba insomma era chiaro che non ci fosse più sua mamma a prendersi cura di lui ma nulla di grave ed era lo stesso di sempre ad un certo punto però trova addirittura una specie di fidanzata se così si può definire una donna di nome adeline watkins con cui va ad un paio di appuntamenti ma praticamente durante questi appuntamenti ed non faceva altro che parlare di sua madre augusta di quanto fosse una donna straordinaria di quanto fosse quasi una santa al che adeline dopo il loro secondo appuntamento gli dice senti bello forse è meglio se rimaniamo amici la cosa curiosa è che quando edgin diventerà conosciuto per le atrocità di cui vi parlerò a breve adeline rilascerà un'intervista ad un giornale dichiarando di aver passato con lui molti anni e dichiarando anche che ed le aveva addirittura chiesto di sposarlo ma lei aveva rifiutato perché aveva paura di non essere all'altezza delle aspettative che lui aveva di lei ma in realtà tutto questo non è vero a detta di ed appunto i due sarebbero usciti insieme sì e no due volte e basta e lo stesso ed è rimasto sorpreso e confuso quando ha letto questa intervista non non riusciva a capirne il motivo cioè non si capacitava del perché quella donna volesse associarsi forzatamente a lui dopo tutto quello che aveva fatto ai tempi non era ancora comune che i serial killer fossero oggetto di desiderio e fascinazione da parte di alcune donne ma vabbè sto andando troppo avanti torniamo a noi ed col passare del tempo lavora sempre meno la terra anzi vende molto del suo terreno e la sua casa lentamente si riempiva di cianfrusaglie di immondizia tutta la sua casa tranne la stanza di sua mamma quella era l'unica stanza della casa ad essere perfetta come se sua madre fosse ancora lì comunque lui ed aveva sempre più tempo libero e in questo tempo lui poteva perdersi nelle sue fantasie oscure nei suoi libri un libro in particolare che legge da cui rimane affascinato e direi segnato è il libro di il secos che era una criminale di guerra tedesca moglie del comandante di un campo di concentramento e ufficiale delle ss che è stata accusata di cose davvero raccapriccianti e che alla fine di questo video in realtà vi suoneranno familiari il secos aveva un feticcio per i tatuaggi quindi pare che prendesse i prigionieri che avevano tatuaggi per poi scuoiarne la pelle e conservarla pare avesse anche conservato diverse teste umane mummificate che usava come soprammobili in casa e che abbia anche conservato molti genitali maschili delle sue vittime inutile dire che ed trovava questa lisa estremamente affascinante e tutto quello che faceva di cui leggeva in questo libro lo incuriosiva tantissimo a questo punto ed inizia anche a visitare il cimitero sempre più spesso soprattutto la notte e ha delle lunghissime conversazioni immaginarie con sua mamma che però lui crede reali quindi da qui capiamo che la salute mentale di ed sta peggiorando inesorabilmente sta cadendo in un buco nero fatto di fantasie strane e oscure che alla fine prenderanno il sopravvento nello stesso periodo lì nella zona iniziano a sparire misteriosamente delle persone in realtà ne spariscono due che però per un posto come plainfield è come se fosse sparita un quarto della popolazione si tratta di due donne mary hogan che sarebbe la proprietaria della taverna del paese sparisce nel 1954 e bernice warden nel 1957 nello specifico la sparizione di bernice warden è particolarmente inquietante bernice warden era la proprietaria del negozio di ferramenta di plainfield e il 16 novembre del 1957 suo figlio il figlio di bernice un uomo di nome frank warden era andato in negozio da lei dopo essere stato a caccia tutto il giorno perché dovete sapere che quella era la stagione della caccia e a plainfield tutti andavano a caccia in quel periodo le strade erano deserte più del solito e le poche persone che si vedevano in giro avevano con sé fucili o animali morti nel cassone dei loro furgoni comunque frank fa per entrare nel negozio di sua madre ma nota che era chiuso e questo era molto strano allora usa la sua chiave per aprirlo e una volta dentro vede qualcosa di sconcertante il registratore di cassa era scomparso e sul pavimento c'era una pozza di sangue ma di sua madre non c'era neanche l'ombra era scomparsa nel nulla e fino a quel momento come vi ho già detto nessuno avrebbe mai sospettato di Ed Gein tutti lo consideravano letteralmente lo scemo del villaggio ma questa volta era diverso questa volta frank warden è sicuro che a fare del male a sua madre sia stato proprio Ed Gein il motivo era che a quanto pare nell'ultimo periodo Ed era andato in negozio da sua madre tantissime volte ci andava più volte al giorno con scuse di ogni tipo e una volta aveva persino avuto il coraggio di chiedere a sua madre bernice di uscire insieme a lui per un appuntamento e andare a pattinare insieme frank racconta anche che solo il giorno prima mentre anche lui si trovava in negozio Ed era entrato e aveva chiesto il prezzo di un antigelo e poi senza nessun motivo aveva chiesto a frank se per caso anche lui sarebbe andato a caccia il giorno dopo e l'ultimo scontrino che sua madre aveva battuto quella mattina prima di sparire nel nulla guarda caso era proprio un antigelo frank insieme alle autorità si recano immediatamente a casa di Ed Gein bussano la porta ma non risponde nessuno perché Ed in quel momento non era in casa si trovava a casa di un vicino i due agenti allora fanno il giro della del casolare della fattoria e notano che lì sul retro c'era una specie di capanno per gli attrezzi e quando si avvicinano notano che proprio lì dentro c'era un corpo appeso subito danno per scontato che fosse il corpo di un alce perché come vi ho spiegato era stagione di caccia e non ci sarebbe stato nulla di strano ma quando si avvicinano un po di più si accorgono che quello non era il corpo di un animale quello era un corpo umano quello era il corpo di bernice warden gli agenti non riescono a credere ai loro occhi bernice era appesa dalle caviglie la sua testa era stata ammozzata e aveva uno squarcio in mezzo all'addome ed era stata svuotata di tutte le sue interiora esattamente come si fa con un alce dopo una battuta di caccia gli agenti allora si dirigono a casa dei vicini di Ed Gein e lo trovano lì aveva appena mangiato era felice sorridente come una pasqua e uno degli agenti va lì da lui e gli dice edward Gein siamo appena stati a casa tua abbiamo visto cosa c'era nel capanno ora tu vieni con noi e lui in quel momento è spiazzato e non sa cosa dire e risponde solo con un debole o nel frattempo lo sceriffo era rimasto a casa di Ed Gein e aveva chiamato rinforzi e insieme agli altri agenti avevano forzato la serratura per entrare e per perquisire l'intera casa e amici quello che trovano dentro questa casa è allucinante preparatevi sedetevi fatevi una camomilla ma soprattutto smettete di mangiare se per caso lo state facendo in casa di Ed Gein trovano a parte un sacco di immondizia e ciarpame perché Ed Gein era quello che oggi noi chiameremmo un accumulatore compulsivo tipo quelli di sepolti in casa solo che non c'erano solo oggetti accumulati negli anni in giro per casa c'erano anche diversi resti umani ovunque c'erano sacchi e sacchi di ossa c'erano organi tenuti nella forma aldeide c'erano teschi umani ma non lasciati in giro così a caso stile Jeffrey Dahmer no Ed Gein era più creativo di così perché con alcuni teschi aveva creato dei posaceneri altri li aveva piazzati sulla testiera del suo letto c'erano sedie rivestite di brandelli di pelle cuciti tra loro con altri pezzi di pelle invece aveva fatto dei coprilampade mentre aveva usato delle ossa umane come gambe per un tavolino oltre questo hanno trovato anche un grembiule fatto di pelle umana una maschera e un busto cioè tipo un gilet fatto di brandelli di pelle cuciti insieme e ultima ma non meno importante una cintura una vera e propria cintura con tanto di fibbia di metallo fatta di capezzoli avete capito bene amici capezzoli oltre tutto ciò Ed a quanto pare toglieva alle sue vittime anche i genitali aveva una collezione di nove genitali femminili ma durante uno dei tanti interrogatori quando le autorità chiederanno a Ed se il motivo per cui faceva questo alle donne fosse per una sua perversione sessuale lui risponderà di no lui non aveva mai voluto avere un rapporto con quei corpi perché puzzavano troppo e diceva infatti di non aver mai avuto un rapporto con i corpi anzi vi dirò di più si dice che Ed Gein sia sempre stato vergine cioè che non abbia mai avuto un rapporto nella sua vita e quando gli chiedono ok ma allora perché sceglievi proprio le donne lui aveva risposto per i capelli i capelli lunghi avevano per me molto valore perché mi servivano per i miei materiali e non chiedetemi cosa voglia dire in tutto le autorità hanno stimato che ci fossero almeno dieci donne cioè che quei resti appartenessero ad almeno dieci donne diverse se non di più Ed Gein viene arrestato immediatamente e quando lo interrogano lui confessa di aver ucciso Bernice Worden e confessa anche di aver ucciso Mary Hogan la proprietaria della taverna del paese che era scomparsa qualche tempo prima anche lei era stata trovata tra i resti che che Ed aveva in casa sua Ed racconta che loro due Bernice e Mary erano le uniche due donne che aveva effettivamente ucciso le altre invece erano già morte quando lui le aveva mutilate praticamente racconta i detective che dopo la morte della madre Augusta come vi ho detto prima aveva iniziato ad andare al cimitero di continuo soprattutto di notte e ogni volta aveva queste lunghe conversazioni con la tomba di sua madre ecco in queste conversazioni parlava con sua madre anche di sesso nel senso che ad un certo punto cioè da un certo punto in poi Ed racconta di aver iniziato ad avere una voglia irrefrenabile di vedere il corpo nudo di una donna cosa che non aveva mai visto prima la madre che come sapete vedeva tutte le donne come peccatrici e il sesso come un peccato mortale gli aveva risposto nella sua testa ovviamente perché ricordiamoci che Ed sta parlando con la tomba di sua mamma quindi tutti questi scambi avvengono nella sua testa e quindi gli aveva risposto che una volta che una donna è morta viene sollevata da qualsiasi peccato abbia commesso nella sua vita e di conseguenza anche il sesso non è più considerato un peccato cioè una volta che la donna è con dio non è più un essere mortale quindi non è più un'umana peccatrice Ed quindi da questa cosa capisce che l'unico modo in cui può vedere il corpo di una donna nuda è se la donna in questione è già morta in questo modo non sarebbe un peccato né per lui né per lei ed è stato in quel momento che Ed aveva iniziato ad andare al cimitero ogni notte di luna piena per trafugare le tombe delle donne così da portarsi a casa i loro corpi o dei pezzi dei loro corpi ma racconta di averlo sempre fatto in balia di uno stato confusionale cioè racconta di ricordare poco e niente di quelle notti e racconta che si sentiva costantemente confuso e ad un certo punto aveva iniziato a non capire più quale fosse la realtà e quale fossero le sue fantasie tutte le donne che tirava fuori dalle tombe comunque nella sua testa erano uguali a sua madre e addirittura ammette che quel corpetto quel gilet di pelle umana che aveva cucito era l'inizio di una muta di pelle umana che voleva creare con l'intenzione di indossarla così da letteralmente amici diventare sua madre i fan del film psycho in questo momento staranno avendo un mancamento come detto per tutto il corso di questa storia la gente del paese lo aveva sempre trattato come lo scemo del villaggio o comunque non aveva mai e poi mai pensato che potesse fare del male neanche ad una mosca figuriamoci ad un essere umano eppure a posteriori diverse persone si sono fatte avanti dicendo ora che ci penso forse qualche campanello d'allarme l'aveva dato il caro vecchio ed per esempio c'erano due ragazzini di 16 anni che abitualmente andavano a trovarlo alla sua fattoria e loro raccontano che in una di quelle occasioni ed gli aveva mostrato due teschi dicendo che erano dei teschi che lui stesso aveva rimpicciolito con una tecnica che non conosco e va bene così ma gli aveva detto che erano teschi mandati da suo cugino che aveva raccolto sul campo di battaglia della seconda guerra mondiale mentre invece a quanto pare non era così quelli erano i teschi di due delle vittime o comunque di due dei corpi che aveva trafugato un altro uomo di nome elmo weck racconta che dopo la scomparsa di mary hogan ed aveva fatto una battuta davvero infelice che tenendo conto di quello che era venuto fuori faceva davvero venire i brividi praticamente un giorno stavano parlando della scomparsa della povera mary quando ed se n'era uscito dicendo sai in realtà mary non è scomparsa e appesa a testa in giù a casa mia e lì per lì elmo non aveva dato peso a questa battuta perché ed era strano faceva sempre commenti fuori luogo nessuno avrebbe pensato che fosse serio e invece probabilmente lo era il processo inizia il 21 novembre del 1957 edgin viene accusato di omicidio di primo grado ma si dichiara non colpevole perché incapace di intendere e di volere infatti gli viene diagnosticata la schizofrenia viene quindi giudicato non idoneo a sostenere il processo e viene ricoverato in una struttura psichiatrica di massima sicurezza ma nel 1968 gli psichiatri che lo avevano in cura lo dichiarano ora abbastanza stabile mentalmente per sostenere un processo e quindi il 7 novembre del 1968 inizia il processo che dura una sola settimana durante il processo comunque edgin diceva di non ricordare esattamente di aver ucciso bernice warden la signora della ferramenta perché come già detto prima i suoi ricordi erano sempre confusi diceva di ricordare di essere entrato in ferramenta ricordava di aver comprato l'antigelo e di averlo pagato ma non ricordava di averla uccisa mentre invece l'aveva uccisa con un colpo di fucile così come aveva ucciso anche mary hogan anche lei era stata uccisa con un colpo di fucile alla fine il giudice robert h golmar lo dichiara colpevole il 14 novembre tra l'altro questo giudice golmar ha scritto un libro su tutta la faccenda da cui ho preso alcune informazioni per questo video vi metto la copertina sullo schermo se vi interessa io sappiate che l'ho trovato però solo in inglese viene fatto un secondo processo per stabilire la sanità mentale di edgin e dopo la testimonianza di tutti gli psichiatri che lo seguivano alla fine lo stesso giudice golmar lo dichiara incapace di intendere e di volere e lo condanna a passare il resto della sua vita in un ospedale psichiatrico giudiziario edgin alla fine è stato processato per un solo omicidio quello di bernice nonostante avesse confessato di aver ucciso anche mary hogan ma come scrive il giudice golmar nel suo stesso libro per una questione di costi hanno deciso di appunto processarlo solo per un omicidio e non per due cioè invece di fare due processi ne hanno fatto solo uno la proprietà di edgin è stata messa all'asta il 30 marzo del 1958 per 4.700 dollari che sarebbero circa 45.000 euro di oggi 45.000 dollari di oggi ma nove giorni prima dell'asta la casa è stata completamente bruciata si dice da un gruppo di persone ma non si è mai scoperto in realtà chi sia stato a dargli fuoco anche tutte le sue cose o almeno quello che ne rimaneva sono state messe all'asta e si sono presentate a questa sta più di 2500 persone la sua macchina per esempio una ford sedan che era quella che usava per trasportare le sue vittime è stata venduta per ben 760 dollari di allora che equivalgono circa 7000 dollari di oggi e l'ha comprata un tizio una specie di giostraio che faceva pagare la gente 25 centesimi l'uno per poter vedere l'auto di edgin comunque il 26 giugno del 1984 all'età di 77 anni edgin muore per una difficoltà respiratoria dovuta ad un cancro ai polmoni di cui soffriva viene sepolto nel cimitero di plainfield proprio quello in cui era sepolta sua madre e quello in cui lui andava a trafugare i corpi e nel corso degli anni a quanto pare alcune persone andavano sulla sua tomba e ne prendevano un pezzettino cioè scalfivano un po la pietra della della lapide per portarsela a casa per non lo so avere un pezzo della lapide di edgin fino a che nel 2000 qualcuno direttamente ha rubato tutta la lapide che tra l'altro pesava una settantina di chili quindi questo qualcuno si era proprio organizzato e impegnato le autorità pensavano di ritrovarla qualche tempo dopo su ebay ma invece la ritrovano l'anno dopo vicino seattle e tenetevi forte la lapide era nelle mani di un uomo di nome shane bugby che era il fondatore del fan club di edgin sì amici edgin ha un fan club tutto bene secondo me no questo shane bugby tra l'altro ha addirittura una pagina dedicata a lui su wikipedia e pare sia un artista un filmmaker un editore o comunque questo è quello che dice wikipedia e oltre ad essere il fondatore del fan club di edgin ovviamente comunque quando le autorità hanno ritrovato la lapide l'hanno recuperata e l'hanno conservata nel deposito del dipartimento dello sceriffo ad oggi la lapide della tomba di edgin al cimitero è vuota senza nome e lui è sepolto tra sua mamma e suo fratello henry e queste amici sono tutte le informazioni che avevo su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già ma penso proprio di sì fatemi sapere che cosa ne pensate e pensate che edgin fosse crudele cioè che fosse un mostro o pensate che fosse semplicemente una persona gravemente trascurata e in balia della sua malattia mentale che ad un certo punto ha preso il sopravvento su di lui lasciatemi come al solito un commento finito il video scenderò a leggerli come sempre nel frattempo io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao